Bene, quest'oggi facciamo un esperimento davvero interessante Ti sei mai chiesta che cosa succede se radi completamente al suolo alla discoteca della fabbrica? Cioè, la musica scompare o continua a suonare la musica anche se non c'è più nulla? Secondo me, Steph rimane perpetua per sempre e non ti relibererai mai Anche se hai reso completamente al suolo tutto? Sì, probabile Dici? E c'è una stregoneria, tipo? Esatto Vabbè, non lo so In ogni caso, noi andiamo alle fabbriche Ovviamente stiamo parlando delle fabbriche che si trovano qui Vediamo un pochettino che cosa succede Perché sono davvero curioso D'altronde, quella musica dà sempre fastidio Se almeno c'è un modo di staccarla Sarebbe bello, sicuramente, se smettessi una volta per tutti Esatto Quindi, noi ci proviamo Dopodiché, ovviamente, andiamo dritti a vincerci un bel game Quindi, facciamo... Non lo so, eh Però ci proviamo Saremo pieno di ferro, che è una cosa positiva, no? Il materiale più utile del gioco Vabbè, anche mattoni, dai, mattoni Un po' di tutto Un po' di roba Secondo me è quasi solo ferro la fabbrica Che poi, Steph, siamo solo in due Ma è davvero grande quella fabbrica Lo so Secondo me ci mettiamo una vita Perché potremmo dover restare lì Almeno 5-6 minuti E quindi non avere loot Anche secondo me Allora Sarà tosta Per ora stiamo a vedere se dobbiamo pure fightare prima di farlo Esatto Sai cosa sarebbe comodo? Un po' di C4 Che bello! Sto rosicando Allora, dovete sapere Che questo è uscito ieri Ok? Io mi sono dimenticata di comprarlo Ieri da quando Fede abbiamo... Cioè, da quando uscirà il video? No Da quando abbiamo registrato Eh, vabbè, dico ieri da quando abbiamo registrato Ovviamente Ok E ho detto, sì, è bellissimo, me lo compro Poi mi sono dimenticata Non sono più rientrata a comprare Me l'ho persa Se ti può consolare è davvero bellissimo Fede Lo so È proprio fantasticissimo Non mi sembra che siano scesi i player Però non sono così tanto sicuro Da essere tranquillo, tranquillo Vabbè, io inizio Quindi comunque... Iniziamo col tetto Ah, neanche lutti? Proprio vai secca lì così? No, spacco il luto Ok Cioè, faccio il piano Ve lo rompo Io provo a cercare un po' di C4 Ok Se la trovo, sai quanto tempo risparmiamo? Un botto Assolutamente sì Dimmi che c'è la chest anche qua Yes, perfetto Anche perché è una cavolo di missione Di aprire sette chest in un game solo Una noia quando capita Eh, lo so Totalmente insopportabile Quindi se riesco me la faccio pure Ne approfitto Almeno faccio qualcosa anche di utile E secondo me ci sta Facciamo anche un po' di legna Mamma mia, ci vuole un botto Cioè, qui nel tetto ci sono i cornicioni Io sto facendo solo i cornicioni al momento Per non mi dare brutte notizie È fattibile? Non lo so La zona non è molto lontana Quindi è positivo Perché tra tre minuti inizia a chiudere E dopodiché avremo altri tre minuti Se ci impegniamo sì Ok Io mi sa che adesso arrivo E come va va Ok? Enorme Ho fatto solo i cornicioni, eh Non sto scherzando No Non dirmi così, Ferre E vanno tolti Perché se no questi rimangono sospesi Ferre, ma se tu buchi da sotto Crolla tutto sopra, eh Dici che crolla tutto, 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 tutto Certo Ok Ho trovato pure uno gnomo Bello Perfetto E anche una ceste Oh, bel fucile No, non rubarmi però il loot, eh Che vuoi? A rompere Eh, un po' lo prendo Avete Vai, spacca i muri di sotto E poi stavi rompendo cornicioni completamente inutili Quindi ti meriti che ti rubo il loot Sinceramente Eh, vado fuori dal tetto Perché poi ho detto scendo a luttare Invece poi tu mi hai rubato il loot Quindi sei scesa adesso Qui non c'è una ceppa Vediamo se trovo qualche arma decente Io sta musica non la sto già più sopportando Già Già Cioè è davvero giosa È proprio per quello che dobbiamo far crollare tutto, Ferre È proprio per quello Ok Ok Io stanno andando abbastanza bene Con che avevi ragione? Si fanno molti mattoni Non ci avevo pensato che Ti avevo detto È tutto di mattoni Ma la ricordavo tutta di ferro io Ma no, non è tutta di ferro Non rompere Ok Bucco, buco, 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 buco Ma mi stai dando la mano? Sì, sto bucando Da questa parte Meno male Ho trovato il convocci da pompa Anche il pavimento Bucchiamo tutto Perché magari la musica viene dal pavimento Non possiamo saperlo Non possiamo saperlo Quindi nel caso se rimane rompiamo anche quello Ok Ok, ci sta Allora, che cavolo butto? Mi sa che lancio le granate che ho trovato Ok Così poi mi raccolgo sto fucile a pompa Che fa comodo Ok, magari c'è qualcosa di bello Bam, bam Ok, raga Così ci siamo dati un pochettino una mano Guardate, ho bucato un bel po' Perfetto Ok È lungo sto lavoro, è lungo Per niente Facciamo in tempo, facciamo in tempo Quello è l'importante Considera che manca ancora più di un minuto Prima che inizi soltanto a chiudere la zona Sì, dai Quindi Ce la si fa senza problemi Ok Ok, più che altro non sta ancora crollando nulla Il che mi spaventa un po' Eh beh, c'è ancora tutta sta parte Ce ne vuole ancora, eh Eh, ma qualcosa da qualche parte poteva iniziare a crollare Quindi Vediamo Iniziavo ad aver paura che magari rimanga a fluttuare No Dai, spero di no Si spera Aspetta che qua sento una cesta, però Si spera Ok Le granate sono state utili, ok Non ne trovi tu roba esplosiva? No, purtroppo non l'ho ancora trovata Un bel lanciagranate No E quanto farebbe comodo Ho appena trovato, no Granate impulso Quindi niente Ah, io ho anche la granata ballerina Ok, sicuramente anche questi pilastri poi vanno distrutti, raga Perché anche questi sono comunque un qualcosa che potrebbe tenere in piedi la struttura Mamma mia, è davvero gigantesca Non ci avevo pensato che poteva essere così complicato questo esperimento Ti l'ho detto da subito, Steph Eh, lo so Ti l'ho detto Hai ragione tu, in effetti È tosto È davvero, davvero grande Non so, non so Io sono ancora molto situante Ma dai che ce lo facciamo A che punto siamo? Abbiamo distrutto almeno la base, cioè, no? Beh, stiamo andando molto bene Molto bene o molto male? Molto bene, molto bene, molto bene L'importante è costantemente prendere i cerchi Sai quanto tempo risparmiamo? Spero che stia andando bene, infatti Sì, lo sto facendo, certo Ok, qui e qua È proprio un minigioco questo Più lo fai veloce, più lo fai bene Prima finiamo Prima ci liberiamo di sta maledetta musica Quello dobbiamo scoprirlo se ce ne liberiamo Che le gomme, buco, tutto Ok, va bene Ok, io sto distruggendo anche il palco, visto che ci sono Dato che comunque è parte dell'esperimento, è proprio Oh, Steph, ma sta fluttuando? Eh, parecchio, sì Mi sto preoccupando abbastanza Dai, se leviamo le scale e sti filastri Ti prego, non fluttuare per sempre Ti prego, eh Scusa, il gioco non è tutto basato Che... Eh, eccolo, 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 eccolo Ok 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 È il pavimento, Steph È il pavimento? Il pavimento Dici? Spacca tutto Spacca tutto Sono questi cosi, secondo me Spacca tutto No, raga, non ditemi che la musica è infinita Vi prego Vi scongiuro, abbiamo raso al suolo tutta la discoteca, porca miseria Non può rimanere la musica Non può Allora, questo È finito Qua ci sono ancora delle casse Aspetta che le spacco Spaccando questo pavimento scompaiono Allora, sono rimaste Aspetta un attimo Tutto, puttocelo Non frega nulla Finisci Ci sono anche delle armi utili Visto che ci sono No, Steph, è finita Vero? Sì Sa che abbiamo scoperto che è infinita, raga Aspetta, però ci sono queste casse enormi Rotte Niente Nulla Per Non so cosa dirsi Sono delusissima, eh Mi aspettavo che ci fosse una soluzione Un interruttore Un qualcosa che la spenga Però siamo stati bravi a radere da solo, eh No? Assolutamente sì Io ho anche 690 di mattoni Eh, io 624 Vuolo un bot Quindi, dai Almeno abbiamo farmato per il game Che poi Spostati Ti fa lo stesso effetto come se fossi dentro o fuori Tipo dentro la senti più forte Fammi vedere Qui fuori la senti di meno E fuori cosa se non ci sono più muri? È vero Capito? Non ha senso È completamente rotta sta roba Bello Quindi lì dentro che rompe? Sì, è appena uscito Ok Ok Arrivo Che fa? Non so Sembrava scarso Invece non lo è Ok Ci sta Ok Ok, ricarico il caccia Mi sto guardando intorno Che non ci sia l'amico Pazzerello Ma non sembra No, non sembra Sembra solo soletto Aspetta che forse Pronta? Sì Povero Dai che non ho tutti sti colpi Quanto hai? Che fa? Sta scappando? E vabbè raga Dai amico Non c'ho 30 colpi Sta scappando Allora Gli ho tolto 50 di shield Ok Buono, 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 buono Adesso lo massacriamo C'ho 26 colpi Lo seguo perché mi sta antipatico Ok Stanno Stanno faiutando nel cratere Come sempre Sì Vabbè quello E beh Sì Sto esce fuori con lancia granate così Come un eroe È morto instant Ok Colpi di M16 Non ne avevo Ne abbiamo solo sprecato Solo sprecato Che cosa brutta Quindi al cratere sfaitavano? Ho sentito colpi provenire dalla sinistra Ho supposto che fossero da qui sotto Anche se non mi sembra che siano da qui sotto Però non erano così lontani da noi Prendi uno di questo E andiamo Sì Non ha shield Gli ho tolto vita due o tre volte Quello di sopra è messo molto male Ok Secondo me non ho sprecato Chi è che ha provato a sniperare? Esatto Secondo me ero da un altro punto Quindi mi sono coperto Gli altre zone Peccato Dove è l'amico? Chi è la cosa di Desert Eagle? Sempre lui Quello sulla montagna Ho visto il colpo dritto Ok E l'altro invece non lo sto più vedendo Tu? E dovrebbe essere lì sotto A 330 Vero Però non compare Eh non lo so Qualcuno comunque spara da più lontano eh Sono sicurissimo Senti questi colpi Questi sono da lontano Non escono fuori? Niente Sì 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 Lui è uscito Uno alla mia sinistra Esatto esatto Attenzione Ho paura che poi mi prenda quello là Se mi espongo troppo E poi c'ho pochi colpi Dai le foglie però eh Arriva l'altro Ok Dov'è? Ah ma c'è un altro A 240 gradi Dietro la collinetta Che sta saltellando Ma mi sembra che stia sparando Quello lì Non lo so Io l'ho visto che Che gli stanno sparando C'è un botto di gente Vedi sì sì Stanno sparando Sì c'arriva la zona Andiamo? Andiamo Andiamo Botto di gente Botto di gente Io ho preso belle sberle Purtroppo Ti avviso Ho due sceldini Quindi te li posso dare Almeno quello Ok Poi ma che non ho colpi Quindi non posso stare a fare questi fight Io ho 30 colpi E io ho 20 Quindi non è che si è messo meglio E dove sono loro? Eccoli Ma non sto riuscita a non morire Ok Mi metto qua Perché per la sinistra Penso che ne abbiamo altri Vi ho fatto un bel headshot Siamo ancora fuori zona Sì andiamo in zona va Non vedo niente Non vedo niente Perché non si vede niente No problem No problem Ok Ho costruito Ho parato i colpi Non rompermi Basta Dai calmo Abbiamo gente fuori zona dietro di noi Non è bello Allora mi riparo Mi riparo i lati E boh spero bene Che casino Di gameplay Quello là ovviamente lì sopra Anche l'high ground Quindi col cavolo che si muove Eh ma non è fuori zona Questo di fronte a noi No li vedo quelli fuori zona Ok Ah ok Stiamo guardando persone diverse allora Sì dove c'è la casetta di legno C'è un altro team che billa Ah eccoli E in più questo di fronte a noi Ok Qua sono due di fronte a noi Lo so Bello Bello Cosa mai potrà andare storto Nulla Eh c'è un altro team ancora dietro Eh vabbè basta O sono sempre loro Non lo so No forse sono loro che si sono spostati un pochettino Sì può essere Sì non sono più qua Non sono più qua chiaramente Ok mi vieni a dare gli scillini Sì infatti sto venendo qua da te Tieni Grazie Eh lo vedo lì sopra Rip C4 Che sta saltando Vado a recuperarla Si sono gli stessi comunque Ok Riconosco la skin Ok perfetto Sto saltellando Sì loro non vogliono Schiattare Perché gli ho tolto Dietro Un 46 di vita Qua davanti Sono scesi Dietro quest'albero Una terra Steph Ok Vieni dietro Vieni dietro Resta 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 No billa Zero Sparalo 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 Basso 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 Eh non posso costruire Vaglio addosso Vaglio addosso Di pompa Di pompa addosso Lì Brava Vieni restarmi veloce Però non ci pigli qualcun altro Che noi Avevo poche cose Ok 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 Anche io ero in difficoltà Non sapevo mai se sparare con M16 Perché ne avevo troppi pochi di colpi Eh pure io E quindi forzavo il colpo del caccia C'è andato un po' male il luto oggi Eh un po' Un po' Figlio tutto al volo Ok puoi prenderti le M16 E Cosa Ok ok Eh Shieldini neo Ok Uh qui c'è un'altra pompa Sempre di quello nuovo Epico Ok io mi prendo queste bende Perché sto messo malissimo E mi prendo anche queste M16 Ferre quanti colpi hai Delle M16 ora 29 Non ne avevo Cosa Che sfiga abbiamo Abbiamo dei player che ci passano qui in fronte Stai nascosta Ho un Porta a porte se vuoi Ok non so se ci hanno visto Posso tirarlo di emergenza Però hanno billato Attaccato alla costruzione Di fronte a noi Allora li vedo li vedo Che ansia Che sfiga Ci sto andando tutto male Aspetta Seguimi Aspetta che prendo le bende Poi me le tiro appena posso Pronta No Fammi tirare almeno una bende Ho 40 di vita Stai Porca miseria Lo so Io l'ho tirato Ho finito pure i maz Cavolo Sono caduta Arriva la zona Steph Pure? Mhm Stanno buttando giù tutto? Non lo so Sembra di sì Oh cavolo Eri tu Li vedi? Sì ce n'è uno qua Lo stavo fettando Ma si è chiuso Arriccio Una terra? L'altro è qua Che corre? Dove è finito? È andato sotto Scusa amico Ma mi servono i colpi Prendi tutto e bevi Cavolo 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 C'è la zona Dove è finito il maledetto? L'ho visto andare qui sotto Da qualche parte Che ansia Non ho neanche mazzo Anch'io Anzi ora sì Te li posso dare Li possiamo dividere Ok calma Lo sento che si muove Ha brillato? Sì 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 Una porta Fini più in alto di noi Cavolo ma come L'ho visto scendere Risalito Eccolo eccolo qua No Maledetto No Para Cavolo Steph Mi ha lasciato bassissimo Anche a me Stanno in alto Ti tira un missile Parati lì il tetto Eh lo fa Brava Continua a pararti Ok non sta rompendo Ma sono messa malissimo Steph E sopra di te Sto cercando di tirarmi Almeno una benda Ok Si è fatto una casupola Sopra la tua testa Wow Ora stascio Non muro di fight Arriva Peccato Non potevo far nulla Sei riuscito fuori così Quei razzi Ma ti sembra Pensa che se lo killavamo Eravamo due contro uno Perché c'era soltanto Un altro vivo Eh no sfortuna Sfortuna e basta Ci è andato malissimo Tutto Il loot Tutto quanto Io ho distrutto il primo Ma avevo zero di Mats Poi questo qua L'erreo più gelosa All'improvviso Dai peccato 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 Comunque bel game Il senso tanto era Soprattutto per quella Cosa era discoteca Certo A quanto pare Non si può togliere In nessun modo Che è una scemenza Ma vabbè ci sta Qua sotto Compareranno altri video Di Fortnite E di altri giochi Iscrivetevi al canale Cliccate per il campanile Di una seconda E ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 ciao